La nostra collezione di quest'anno è una collezione di una donna un po' dark, un po' forte, una donna moderna, una donna che si alza la mattina, si mette un capo e poi lo deve portare tutto il giorno. Oltre a avere poi delle cose spaziali particolari che sono per esempio queste cose qui con la pelle, con intarsi che si ispirano un po' agli anni 60, al Paco Rabanne. Noi curiamo molto i particolari, ad esempio questi inserti in pelle vengono condivati da guanti con lo stesso inserto, la stessa cosa vale per gli zibellini, le cinture, cerchiamo di coordinare completamente un capo. Fodere in esclusiva, fatte apposta per noi, disegnate apposta da noi. Deve essere un prodotto di estrema qualità perché in questo momento da noi vogliono il massimo. Made in Italy deve essere il massimo, deve rimanere il massimo.